Il secondo giudice potrebbe reiterare il reato perché presenterebbe un pericolo in questo senso. Resta in caccia del 56enne clandestino di origini marocchine con pesanti precedenti alle spalle, finito in manette lo scorso sabato per violenza sessuale nei confronti di una trentenne a retina. Il GIP Fabio Lombardo ha infatti convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. L'abuso si sarebbe consumato nella notte tra giovedì e venerdì all'interno di un dormitorio abusivo in via Curina, alle porte del centro storico Aretino dove abitava il marocchino. L'uomo prima avrebbe rubato la bici alla vittima e poi minacciandola con un coltello si sarebbe fatto seguire per poi violentarla. La donna il giorno successivo ha raccontato l'episodio ai carabinieri e è stata così portata in ospedale e le analisi avrebbero confermato segni di violenza. L'uomo invece ha parlato di un rapporto sessuale consenziente avvenuto dopo una notte trascorsa assieme. Sembra appunto da quello che lui ha detto che gli è stata chiesta dello stupefacente, lui ha risposto negativamente che non l'aveva, che non gli impasseva da niente, quindi c'è stata una reazione e lì c'è stato un po' un diverbio. Dopodiché tutto è rientrato, si è svolto poi tutto il resto, diciamo il rapporto sessuale ma consenziente, senza nessuna violenza eccetera. E quindi lei tutta la notte è stata lì, il giorno dopo sono andati tranquillamente da Via Curina, sono ritornati in piazza Guido Monaco e si sono lasciati. La versione è questa qui, poi quale sia vera fra le due non lo so.